Next Gen, nuovi linguaggi finanziari. Bentrovati in nostra compagnia e bentrovato all'ospite che oggi sarà con noi, Frank Di Crocco, Head of Banks and Wealth Management in Vesco Italia. Bentrovato. Bentrovato. E allora oggi parliamo di consumi, dell'evoluzione dei consumi e di come in qualche modo sono cambiati nel corso del tempo, nel corso dei tempi e anche come si differenzia il consumo attraverso le varie generazioni ovviamente. E allora, Frank, rispetto agli anni 80 e agli anni 90, bei tempi aggiungerei io, lo stile di vita delle persone è cambiato. Partiamo da questo concetto che è un po' banale ma adesso lo approfondiamo. Siamo abituati a fare acquisti con un click sul telefono, a fruire dei media specialmente attraverso i monitor, di un computer, di un tablet, ordinare la cena del nostro ristorante preferito stando sul divano. Tutti noi insomma abbiamo sui nostri smartphone app, applicazioni come facciamo un piccolo elenco Deliveroo, guardiamo Netflix, utilizziamo Amazon. E allora partiamo da qui, partiamo da questo insieme a te e da questo insieme di evidenze insomma nella nostra vita di tutti i giorni. Le evidenze sui nuovi consumi e soprattutto le nuove generazioni sono così diverse da quelle precedenti? Ecco, no, diciamo che sono abbastanza simili, soprattutto se parliamo in ambito valoriale, in ambito di tipologia di consumo, di obiettivo. Quello che cambia è chiaramente il modo con cui poi vengono effettuati questi consumi, no? Restano pressoché identici gli obiettivi di lungo termine. Sappiamo che tutti, anche oggi, anche i giovani vogliono acquistare una casa, pensano a una pensione integrativa, vogliono un futuro senza affanni finanziari. Quindi diciamo che sono tutti obiettivi di lungo termine simili o pressoché identici rispetto a quelli dei loro genitori o dei loro nonni. Quello che dicevamo prima, invece, il cambio generazionale sta proprio nel fatto del come arriviamo, come raggiungiamo questi obiettivi. Lo strumento. Lo strumento, evidentemente. E qui noi in Invesco abbiamo simpaticamente ribattezzato i millennials e la generazione Z, una generazione, per così dire, generazione Amazon, no? Ma loro lo sanno? Loro non... Credo di no. L'avete cambiato, ok. Credo di no. Noi in ufficio simpaticamente li abbiamo ribattezzati così. Però ci sta, in effetti. Esattamente, perché sono quelli che vogliono tutto e subito, non amano le file, non amano l'attese, non amano la burocrazia. E questo perché? Perché il millennials oggi è un soggetto avvezzo la tecnologia, pronto a utilizzare le varie app, molto più rispetto ai loro genitori, ai loro nonni, e in particolare hanno un accesso, è una quantità di informazioni talmente elevato che è molto più semplice e intuitivo utilizzare un'app che non fisicamente fare un acquisto. Quindi diciamo che il gap generazionale lo vedi proprio nell'approccio, no? Tra i millennials e i boomers, è la generazione X. È anche evidente però che... Altra generazione che forse non sa neanche di essere boomers, no? Lo dicevamo anche quando la lucina era off e dovevamo ancora iniziare la nostra chiacchierata. Ti ho interrotto, scusa. No, ma figurati, si sono trovati catapultati in questa generazione, no? Brandizzati così. Ecco, quello che volevo dire è che anche la generazione precedente, quindi i boomers, mettiamola così, anche loro, grazie magari anche all'avvento pandemico che stiamo vivendo ancora oggi, si sono dovuti adeguare a questo cambiamento. Quindi oggi parlare di Netflix, come dicevi te, di Deliveroo, di Zoom, di Amazon, con loro, è abbastanza naturale. Cioè fa parte integrante della loro vita, della nostra vita. Cioè tutti abbiamo utilizzato queste app durante questi ultimi due anni e continueremo a farlo anche in futuro. Quindi la risposta alla tua domanda è se i boomers e i millennials hanno dei tratti in comune, sicuramente sì in termini di obiettivi da raggiungere, e l'abbiamo detto, ma quello che cambia è il modo che loro utilizzano per raggiungere quell'obiettivo. Ed è un modo molto più intuitivo rispetto al passato. Dopodiché ci sono coloro i quali crescono e quasi nascono con queste applicazioni, tu la chiamavi generazione Amazon e c'è chi si adegua, no? Come evidentemente in questo caso la generazione boomers, per citare, per fare un esempio. Io ricordo ancora come se fosse ieri quando per la prima volta ho prenotato un albergo col telefono e sostanzialmente era a Bali, scusate, ero all'aeroporto di Monaco e sostanzialmente ho prenotato questo albergo col cellulare e dopo che l'ho fatto, mi sono detto, utilizzando il wifi dell'aeroporto, mi sono detto, è veramente il futuro, life is now, no? Per dire, il futuro è adesso, era il 2012. Chiedo scusa per questa piccola parentesi che ho aperto e che ho chiuso, ma credo che più o meno si potesse ben inserire nel contesto. No, ma un esempio molto evocativo, no? Nel contesto. Eh sì, 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 ma proprio credo che rimuginai per tutto il volo, diciamo, che feci poi dalla Germania, insomma, all'isola, insomma, e quindi l'Indonesia. Allora, nuove generazioni che tra l'altro, secondo i sondaggi, sembrano molto più attente alle tematiche dedicate alla sostenibilità. Apriamo questa parentesi quadra, però. Ti chiedo se risulta, insomma, anche a te, anche a voi di Invesco, così attenti ovviamente alla sostenibilità e come questa attenzione si ripercuote effettivamente e concretamente sui consumi. Allora, è evidente che i millennials, rispetto alle generazioni passate, hanno una maggiore sensibilità ai temi relativi alla sostenibilità. Quando si parla di sostenibilità, molto spesso noi associamo questo termine semplicemente al cambiamento climatico, no? Però la sostenibilità ha anche altri aspetti, no? Si parla di etica, si parla di sostenibilità anche nei processi produttivi, sostenibilità nei modelli di business, si parla di diversità, si parla di inclusion. Quindi ci sono tanti aspetti che sono correlati al tema della sostenibilità. Quello che è giusto sottolineare è, in questi ultimi anni, ed è confermato anche dagli ultimi dati dell'Edelman Trust Barimeter, c'è una riduzione, mettiamo, un calo di fiducia da parte dei giovani nei confronti delle istituzioni e dei media, mentre cresce quella fiducia nei confronti soprattutto di aziende che incominciano davvero a fare qualcosa per, come dire, aiutare l'ambiente, no? Quindi che si mettono in gioco proprio per dare un'impronta positiva al tema della sostenibilità. E questo si riflette anche in finanza. Giusto per darti un numero, lo scorso anno si è raggiunto la cifra record di 3.9 trilioni di dollari investiti in sostenibilità. E questo è un elemento molto importante, perché poi il riflesso lo si trova anche nella finanza, no? Quindi anche nell'asset management, i fondi che vengono lanciati in articolo 8, articolo 9, ISG, per cui c'è tutto uno strascico dietro questo tema della sostenibilità. Per darti un'idea anche di come i giovani sono molto più attenti a queste tematiche, ti riporto tre numeri molto importanti dal mio punto di vista, perché hanno un doppio risvolto. Da un lato positivo, per certi versi, dall'altro invece preoccupante. Pensa che il 33% dei millennials oggi investe sostenibile. Se andiamo a guardare le generazioni passate, quindi magari le generazioni X, questa percentuale scende al 16%, si dimezza. E addirittura, se andiamo a guardare i boomers, arriviamo al 2%. Quindi è evidente che i millennials di oggi hanno una certa aderenza ai temi della sostenibilità. I millennials oggi cercano brand, aziende che hanno un impatto positivo all'ambiente, che non fanno soltanto gli interessi dell'azionista, ma fanno gli interessi della collettività. Diciamo una cosa anche che forse appare banale, ma probabilmente non lo è, generazione X, boomers, all'epoca di quando avevano l'età dei millennials, non avevano tutta quella scelta e forse non c'era anche quell'attenzione che oggi viene data alla sostenibilità. Con questo non voglio difendere la nostra generazione, ma era giustamente per dare anche una parte, spiegare in parte anche i motivi dei numeri che hai dato, poi correggimi se sbaglio ovviamente. No, no, è perfettamente corretto il tuo ragionamento, tant'è vero che fenomeni come Greta, manifestazioni, sit-in come la COP26, non possono che alimentare questa sensibilità, per cui è evidente che queste due componenti, la stampa, personaggi, piuttosto che testimonial, che continuano chiaramente a sostenere la bontà degli investimenti sostenibili, giustamente, possono soltanto che aumentare il bacino di utenti che prima o poi andrà in quella direzione, perché siamo, come dire, su un tracciato, su un percorso che può solo andare avanti ormai, non si può più tornare indietro. Si può rallentare un pochettino, probabilmente non riusciremo a raggiungere dei target rispetto, appunto, alle date prefissate per svariati motivi, ma la direzione è quella, si va verso un mondo più sostenibile, un mondo più pulito, la famosa transizione energetica, ecologica verso un mondo più green. E ci dobbiamo ricordare, e le aziende devono ricordarsi, che il millennials di oggi sarà l'investitore di domani, per cui se riusciamo a fare breccia nel cuore del millennials, probabilmente ce lo ritroveremo poi al tavolo come investitore. E allora, tra i diversi trend di investimento, lo abbiamo accennato anche nella scorsa puntata di NextGen, da tenere presente sicuramente anche due particolari boom collegati tra loro e, insomma, anche qua andiamo sia nella direzione delle nuove generazioni e sia nella direzione della sostenibilità. Parliamo degli NFT, i non-fungible token e il metaverso. Sappiamo che tante aziende si stanno spingendo a intraprendere iniziative in questo senso. Ricordiamo che chi non lo sapesse questa tipologia di beni spesso si associa anche a cifre non propriamente a basso costo. Due domande che giro a te, Frank. La prima, il tipo di consumatore che fruisce di questi beni. Sono giovanissimi? Sono solo giovanissimi, chiedo scusa, oppure in qualche modo c'è un'influenza anche da parte delle nuove generazioni su quelle precedenti? La seconda è che, se a vostro parere, sono trend che potranno durare nel tempo. Recentemente leggevo che gli NFT hanno avuto come 2021 l'anno della consacrazione, forse discutibile, nel senso che se ne può parlare, e che il 2022 sarà l'anno della verità. Insomma, è un argomento su cui ci si può porre delle domande da questo punto di vista. E se sì, quindi, se questi trend potranno durare nel tempo, tornando alla mia domanda, quali sono le strategie per cogliere queste opportunità sul mercato, aggiungo io, senza farsi troppo male? Ecco, qui, allora, incominciamo a rispondere alla prima domanda. Prima domanda. Ok, la prima domanda, se non ricordo male, è quella relativa al fatto se il metaverso, i suoi temi e tutti i suoi micromondi collegati appartengono soltanto ai giovani oppure anche alle generazioni passate, corretto? Perfetto. Ti direi che appartengono ad entrambi, perché facciamo giusto qualche esempio anche semplice proprio per cercare di inquadrare il problema, no? E il punto. Nel mondo ci sono 7.7 miliardi di persone, ok? Circa 3.2 miliardi di persone hanno avuto a che fare in un modo o nell'altro con i videogame. Quindi vuol dire che circa il 40% della popolazione mondiale ha giocato almeno una volta con i videogame. Ed è evidente che l'ondata pandemica abbia aumentato, no? abbia attratto tantissime persone, perché abbiamo trascorso più tempo a casa, abbiamo trascorso più tempo con i figli, abbiamo dovuto anche ammazzare la noia per certi versi in alcuni momenti, no? Riorganizzare il tempo libero. Riorganizzare il tempo libero, quindi nuove modalità di tempo libero. È mancata la socialità sostanzialmente. Ora, il giro di affari dei videogame, alla fine del 2021, era di circa 180 miliardi di dollari. Da un'analisi fatta dai nostri analisti e dalle proiezioni di ricavi di queste aziende, il volume di affari nel 2024 sarà di 280 miliardi di dollari, quindi incrementerà nei prossimi due anni e mezzo di circa 100 miliardi di dollari. Quindi un volume di affari molto, molto importante. Cosa è successo nel 2021? Nel 2021 la blockchain è entrata nel settore dei videogame. Quindi, per fartela breve, alcune aziende erano disposte a pagare i giocatori per giocare. Cioè ci si poteva guadagnare. E' l'evoluzione del videogame che una volta usavamo, la nostra console, cosa che peraltro ho fatto io stesso durante il lockdown. Ho riesumato le vecchie console e mi sono messo lì. L'evoluzione è stata poter giocare in rete. L'evoluzione di poter giocare in rete è poter essere pagati, poter ricevere un compenso. Esattamente. Attraverso un blocco. Un premio, perfetto. Quello che una volta veniva dato con un cannoncino, si chiamava, con una vita in più, adesso è un premio in denaro. Questo è chiaramente il primo passo verso il cosiddetto metaverso. Ora, per cercare di capire che cos'è il metaverso, secondo me bisogna lavorare su un concetto molto affine al tema dei videogiochi, che è quello dei livelli. Allora, il primo livello del metaverso sono gli NFT, i famosi non fungible token, che sono degli asset non fungibili. Sono una sorta di riproduzione digitale di un oggetto reale, che può essere un'opera d'arte, un video, un link, una foto, un terreno. Un'azione sportiva. Un'azione sportiva. I primi non fungible token sono delle azioni di palacanestro diventate appunto NFT e acquisendo anche un certo valore. Assolutamente. Ora, questo NFT dà il diritto di proprietà a chi possiede questo NFT e dà una sorta di diritto di autenticità dell'opera che io sto detenendo. E questi sono gli NFT. Poi passiamo al secondo livello. Una volta capiti che cosa sono gli NFT, quello che effettivamente dobbiamo capire è che il metaverso sarà una rivoluzione, ok, che cambierà per sempre le nostre vite digitali. Quindi Zuckerberg lo ha fatto, oops, I did it again, lo ha fatto con Facebook e rischia di rifarlo col metaverso. Esatto. Quindi una, come dire, una piattaforma parallela alla nostra vita reale, ok, e quindi come se fosse una sorta di comunità, quindi dove possono anche nascere delle nuove comunità, comunità che nascono dal basso. Il terzo livello qual è? È il livello in cui tecnicamente i due mondi interagiscono. Cioè questa piattaforma, diciamo questa nuova comunità interagisce con il mondo reale. Questo è il terzo livello, che è quello più complesso. È il mostro ultimo livello, no? È il mostro ultimo livello, bisognerà capire quanto tempo impiegheremo affinché queste due piattaforme, la parte digitale e il mondo reale, riescono a convivere e che tipo di relazioni avranno. Quindi se vogliamo fare una sintesi su che cos'è il metaverso, cosa sarà il metaverso. Il metaverso è quel luogo dove delle cose che normalmente in un mondo reale non hanno né valore, né cittadinanza e né una forma, possono assumere un metaverso, quel valore. Mi viene in mente quando spesso si dice, sì, beh, ma insomma in rete ci sto, insomma, magari sui social ci sto, però quelle sono, insomma, lascia il tempo che trovano. La vita vera è un'altra cosa. Potrebbe cambiare anche questa percezione. Assolutamente sì, perché prima i social venivano visti come un luogo dove tu andavi per dimenticarti del mondo, no? Ci sto. Ok? Oggi il social cosa serve? Oggi il social è un luogo dove tu vai a scoprire il mondo. Quindi questa è l'evoluzione dei social. E quindi il metaverso per noi è un qualcosa dove qualcosa di poco concreto prende concretezza sostanzialmente. Assume un valore. Probabilmente non si potrà parlare di profitto nel breve termine, ma di valore sì. Quindi c'è comunque anche un rischio come è accaduto con la rete del boom che poi si è rivelata una bolla e quindi si è dovuti un po' ripartire prima di prendere coscienza del web. Perché inizio, insomma, ricordo ancora i vecchi domini, insomma, che sembrava potessero diventare un punto di riferimento, ma che poi sono, non voglio usare il termine fallito, ma diciamo che sono scomparsi nel giro di poco tempo. Ricordo ancora Altavista, che sembrava il motore di ricerca migliore di tutti, ha avuto vita breve. Ma bravissimo, infatti hai toccato un punto fondamentale. Oggi quanti motori di ricerca conosci? E' quello l'unico. Non lo vogliamo dire, non lo diciamo, però è uno. E' uno, no? Poi gli altri si agganciano a quello principale. Nel metaverso sarà così, cioè nel senso, conterà molto la credibilità, no? E la consistenza. Quindi, come dicevo prima, valore sì, profitto nel breve termine, probabilmente no. Strumenti per cavalcare il metaverso in questo momento possono essere strumenti passivi, ETF, TN, TC, che stanno incominciando a essere lanciati, probabilmente verranno lanciati di nuovi fondi. Probabilmente, ma questi sono gli strumenti che al momento possono essere utilizzati per sfruttare questo tipo di canale, oppure all'interno di strumenti finanziari molto più diversificati, molto più grandi da un punto di vista di dimensione, proprio di masse, dove all'interno di una diversificazione c'è un pezzettino di metaverso. Cioè c'è un pezzettino di comparto che viene destinato all'acquisto di aziende che possono cavalcare quel trend, magari con delle linee di business. E così abbiamo risposto anche alla seconda parte della seconda domanda, alle strategie per cogliere questa opportunità sul mercato, nel momento in cui vengono percepite e garantite come tali. Perché poi, appunto, come spiegavi, nel brevissimo magari bisognerà in qualche modo imbattersi in qualche muro, insomma in qualche magari errore di sistema, in questo caso, parlando per usare una metafora, insomma, sulla questione del metaverso. Sì, esatto. Cioè l'importante dal nostro punto di vista è che non ci faccia confusione. Cioè il metaverso non è il gaming, no? Il gaming è la molla, ma non sarà il motore del metaverso. Questo è, diciamo, un aspetto che bisogna tenere ben presente. Eh sì, anche perché, insomma, ci siamo domandati se questi sono trend che potranno durare nel tempo, evidentemente si andrà ben oltre, insomma, il videogame, che come hai detto tu, rappresenta la molla, quindi il propulsore, no? Se vogliamo. Beh, abbiamo detto come i consumi sono cambiati e come in realtà, invece, per altri versi, sono rimasti gli stessi, come cambiano i consumatori, come cambiano le generazioni, e i prodotti e i servizi offerti dalle aziende. Ci sono settori che, per definizione, si trovano più avanti rispetto ad altri, primo fra tutti la tecnologia, ma anche l'automotive che in qualche modo si collega alla tecnologia stessa, anzi dipende dalla tecnologia stessa e sta reinterpretando il proprio ruolo quasi più come provider, rispetto a di servizi di mobilità. Ci sono però anche altri settori che hanno avuto una grande evoluzione e hanno cambiato o anche allargato la propria offerta sulla base proprio delle nuove generazioni, dell'attenzione delle nuove generazioni. Possiamo pensare al lusso, che forse una volta era la cosa più lontana dalle nuove generazioni che potesse esserci e che invece ha creato intere collezioni che ammiccano, si fanno apprezzare dai più giovani, anche attraverso dei testimonial che effettivamente hanno influenza sulle nuove generazioni. Ogni riferimento agli influencer è assolutamente voluto. Queste tendenze, viste queste tendenze, i settori che si evolveranno maggiormente e cambieranno in qualche modo in linea con la richiesta dei nuovi consumatori e nuovi siti di acquisto da parte delle persone. E anche in questo caso, rimango sulla seconda parte della precedente domanda, le strategie più adatte per anticipare questi trend anche sui mercati senza farsi male. Allora, sui mercati se si lavora con giudizio e senza strafare ci si può far male, ci mancherebbe altro, però è un rischio che noi riusciamo anche a calcolare. È un male da cui si può imparare per investire meglio. Esattamente. Tornando alla domanda invece sul discorso dei consumi, quello che abbiamo notato è che effettivamente quello che è successo negli ultimi due anni ha un po' accelerato alcuni settori, alcuni settori soprattutto quelli legati alla tecnologia. Il fatto appunto della mancanza di socialità, di non poter magari viaggiare, di non poter andare al cinema, ha sicuramente riscoperto alcune modalità di consumo che probabilmente fino a qualche tempo fa c'erano, però non tutti cercavano. A noi piacciono molto i famosi compounder, compounder che lavorano sulla tecnologia, parliamo ad esempio di e-commerce, parliamo di vendita online, parliamo di rettificazione del denaro, parliamo di car sharing, tutto quello che chiaramente ha avuto un boom, soprattutto nel 2020, realizzando anche dei guadagni, dei ricavi impressionanti. Il 2021 invece è stato l'anno in cui effettivamente alcuni di questi settori ha un po' sottoperformato. Quindi oggi ci troviamo in una situazione appunto di equilibrio, quindi abbiamo avuto un 2020 in forte accelerazione, un 2021 con una flessione, soprattutto nella seconda parte dell'anno, quando si sono un po' allargate le restrizioni dovute anche al Covid. Quindi oggi noi abbiamo una situazione in termini di prezzo, di valutazione di alcune aziende molto interessanti, in linea con quello che è il fair value di mercato. È evidente che i consumatori continueranno a cercare tipi di consumo digitali, anche dopo la pandemia, quindi non si arresterà il concetto di sviluppo di consumi digitali, però allo stesso tempo non si priveranno mai di quei consumi che non hanno un sostituto digitale valido. faccio riferimento ai viaggi, è inutile che ci diciamo che con un visore posso andare alle Maldive, perché è vero, ci puoi andare, ma è molto diverso da andare alle Maldive e toccare la sabbia con i piedi. Mi riferisco all'intrettenimento, possiamo anche guardare un concerto seduto sul divano, ma è molto diverso rispetto a assistere a un concerto in uno stadio. Quindi queste esperienze qui continueranno a esserci, quindi queste esperienze che fanno fatica a trovare un sostituto digitale continueranno a esserci. Quali sono i tre settori che dal nostro punto di vista hanno avuto un boom molto forte e continueranno a avere una forte crescita? Il primo tra tutti è l'e-commerce. Ci siamo accorti che effettivamente, è inutile nasconderlo, l'e-commerce è molto più intuitivo, molto più veloce, molto più pragmatico rispetto all'acquisto fatto fisicamente. Su alcune tipologie di prodotti ovviamente. E la pandemia, come si è detto prima, ha accelerato questa esplosione dell'e-commerce. E ci si adatta, perché poi adesso anche la bottega sotto casa, sempre più frequentemente, ha anche un servizio e-commerce. Che prima veniva chiamato la delivery a casa, no? Eh sì, sì, sì. Quando si chiamava giù l'alimentare, si diceva mi porti per favore, no? Con il vecchio cestino che veniva tirato su, la nonna lo faceva, ma nonna lo faceva. Eh, questa è un po' l'evoluzione di quella generazione lì. Quindi l'e-commerce però, se io guardo i volumi generati a livello globale del consumo, l'e-commerce partecipa per un 15-20%, quindi siamo ancora molto lontani. Cioè, oggi il 75-80% del consumo globale viene fatto in maniera tradizionale. E ancora in maniera tradizionale. Perché ci sono anche dei beni che, in questo momento storico, non possono essere comprati in maniera elettronica. Di pari passo all'e-commerce c'è l'elettrificazione del denaro. Quindi i sistemi di pagamento online. Perché l'e-commerce esiste se esiste un modo per pagare quel prodotto in maniera elettronica. Eh certo. Sono molto correlati, anzi, uno forse non può vivere senza l'altro. Senza l'altro. Quindi, diciamo che sono proprio eutici. E' vero che le carte di credito sono nate nel 1950, ma soltanto il 50% della popolazione mondiale possiede una carta di credito. E ci sono sempre più nuove piattaforme, nuovi strumenti di pagamento online, quindi che non necessitano di una carta di credito. Si possono tranquillamente associare dei conti correnti. Non vogliamo citare nomi, però tutti utilizziamo forme di pagamento diverse rispetto alla carta di credito, no? E poi c'è il terzo aspetto. Molte aziende sono quotate in borsa. Molte aziende sono quotate in borsa, assolutamente sì. E poi abbiamo un terzo settore, dal nostro punto di vista, che è cresciuto moltissimo e che effettivamente, prima della pandemia, veniva considerato come un accessorio. invece adesso è pressoché necessario, ovvero il cloud. Il cloud, sì. Questo è un altro settore che sta crescendo in maniera molto molto importante, a doppia cifra, in maniera esponenziale, perché si è capito che effettivamente sia da un punto di vista di sicurezza che di praticità si può utilizzare i cloud come un sorta di, diciamo, di store. Eh sì. No? Ti faccio una domanda che è più che altro una provocazione. Mm, ci invertiamo il ruolo. Dai, va bene. Esatto, esatto. Allora, prima ti racconto un aneddoto. Sì. Allora, qualche settimana fa ero con la mia famiglia per una gita fuori porta, al lago. Al termine della visita di questo bellissimo castello, la signora lì della biglietteria ci regala un DVD. Mm. Noi prendiamo il DVD e la prima cosa che mi viene da dire quando entro in macchina dico a mia moglie e a mio figlio ma noi questo DVD dove lo vediamo? Come ce lo guardiamo? Come lo guardiamo? Perché io non ho un lettore DVD. Mm. La provocazione è prova a chiedere oggi a un millennial se ha un CD, un DVD o la famosa chiavetta USB. Tutti strumenti che per noi sono stati essenziali sia per l'intrattenimento sia per anche il nostro lavoro, insomma. E prova a pensare questi tre strumenti dove sono stati raggruppati. Torniamo alla parola cloud. Nel cloud. Mm. Abbiamo un film conserviamo immagini abbiamo 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 documenti tutto nel cloud. È chiaro che qui si necessita anche poi di un livello e di un grado di sicurezza nettamente più elevato rispetto al passato perché la chiavetta USB effettivamente ce l'avevi in tasca. Quindi posso aggiungere magari un quarto punto diciamo oltre all'e-commerce pagamento digitale e al cloud cyber security. Cyber security. però la cyber security è più un settore trasversale che tocca tutti i settori anche i sistemi di pagamento online hanno necessità di avere no? i sistemi di sicurezza tali per cui si rendono sicuri proprio i pagamenti. Beh ma a questo punto te lo dovevo chiedere quel DVD che cosa conteneva? Era la storia del castello ma purtroppo l'ho vista dal vivo e lo usate come sotto bicchiere quindi? Più o meno. Ok. Più o meno. Va bene e allora anche oggi è stata una bella chiacchierata e per quanto riguarda Next Gen nuovi linguaggi finanziari allora grazie a Frank Di Crocco Head of Banks and Wealth Management Invesco Italia grazie grazie Giacomo grazie dell'invito davvero e alla prossima puntata Grazie a tutti Grazie a tutti.